Tipografia Tirrena, in via Benedetto Gravognolo 36 e in corso Mazzini 87 a Cava dei Tirreni. Tipografia Tirrena, stampiamo le tue idee. Non si placano le polemiche all'indomani dell'indizione di una procedura di selezione per il reperimento di un direttore generale per la Metellia Servizi, la società partecipata del comune di Cava dei Tirreni. Bando scaduto lo scorso 30 giugno e finito nel mirino per la poca pubblicità data all'avviso pubblico. Nei giorni scorsi c'è stato un duro botta in risposta tra l'ex assessore Enrico Bastolla ed il sindaco Vincenzo Servalli. Se da un lato Bastolla accusa l'amministrazione di aver dato poco risalto al bando, mettendo da parte la tanto sbandierata trasparenza dei processi amministrativi, rimarcando che si tratterebbe soltanto di uno spreco di denaro inutile che potrebbe essere destinato ad altre attività, in particolar modo per le politiche sociali, dall'altra non si è fatta attendere la replica del sindaco Servalli, il quale ha sottolineato che si tratta di due capitoli di spesa completamente differenti. Bastolla però è tornato sull'argomento. Non intendevo donare gli utili della Metellia ad altre voci di bilancio, ma fornire alla Metellia altri servizi, in modo da destinare detti risparmi ad iniziative, principalmente nel settore dei servizi sociali e del terzo settore, alle famiglie meno ambienti. E sempre Bastolla ha annunciato che nelle prossime ore sarà proposto all'ANAC, Associazione Nazionale Anticorruzione, un'istanza di allullamento del bando.